Chi pagherà la bonifica del sito di Bussi? Questa è la domanda che vi fate e di cui parlate oggi in conferenza stampa. Sì, è il tema centrale della discussione di oggi perché vogliamo capire che cosa viene fuori da questo futuro accordo di programma perché vogliamo scongiurare che siano sempre i cittadini a pagare il dazio di un inquinamento fatto da altri. Quale, secondo voi, deve essere il futuro di questo sito? Beh, innanzitutto bisogna iniziare a affrontare seriamente la discussione su una bonifica totale del sito. Fermo restando che noi siamo stati da sempre favorevoli anche a un discorso di reindustrializzazione ma il problema non è tanto cosa fare ma come farlo e ad oggi non abbiamo le garanzie necessarie affinché questa realtà sia affrontata in modo serio. Da un punto di vista ambientale oggi qual è la situazione di Bussi? È una realtà che continua a inquinare, c'è bisogno di intervenire sia sulle discariche 2A e 2B sia sull'area industriale che sulle Tremonti che è una realtà non affatto dormiente. Da qui quindi la necessità di mettere in campo finalmente una riflessione seria su questa intera realtà.